Allora, invece è venuto fuori, ma adesso viene fuori la tua parola, che è una parola bellissima, che ti sta benissimo addosso, che è la parola prodigio. Allora, noi tra poco parleremo di bambini, ma prima voglio parlarti di uomini. Io vorremmo chiedere se sai chi sono di uomini d'oro? Forse. No, perché gli uomini d'oro io non lo sapevo, sono quelli che fanno una rapina, ma senza spargimento di sangue. E questa è la storia di tre uomini d'oro e di una ragazza che si è innamorata di uno di loro. Vediamo se la riconosci. Ma tu ce l'hai tipo un sogno. Un sogno? Ma non te lo dico. È chiaro. No. E perché? Tu poi mi prendi in giro. No, ma che ti prendi in giro, veramente? Non ti prendi in giro, te lo giuro. Mi interessa, qual è? Un salone di bellezza. Sì, ma io ricevo un sogno vero, un sogno grande. Scusa, ma ognuno ha il suo sogno grande? Che c'entra? Un salone tutto mio, te lo immagini? Allora, questa era una scena del tuo film con Gian Paolo Morelli, Fabio De Luigi, Edoardo Leo, gli uomini d'oro, regia di Vincenzo Alferico. Tu sei una sognatrice, sai, così. Nel film o nella... Nel film abbiamo già capito che lo sei. Nel film sì, molto. Sì, sì, anche nella realtà, parecchio. Quasi rischiando a volte di essere patetica, però sì, lo sono. Senti, è una storia di un fatto di cronaca, no? Sì, è un fatto di cronaca, è accaduto realmente, siamo periodo Italia 90 e questi personaggi decidono di fare questa rapina, come dicevi tu, senza fare del male a nessuno. Siccome è del film, adesso, la storia è questa, poi mi interessava parlare, perché i protagonisti sono loro, gli uomini d'oro, sono i maschi. Ci tenevo a raccontare i personaggi femminili che hanno meno spazio nel film, ma sono molto importanti. Ognuno di questi tre personaggi ha di fianco una donna. Una donna. I tre rapinatori. I tre rapinatori hanno di fianco una donna. E quello che mi piace della trama è che le donne, in questo film, per quanto appaiano meno, sono fondamentali perché sono coloro che fanno scattare in questi uomini, sono come dei trigger, che fanno scattare... Trigger? Trigger, sì. Innesti, come l'innesco. Traducilo, non so, per noi umani. Vabbè, innescano un meccanismo per cui questi uomini che si stavano accontentando delle proprie vite, decidono di invece finalmente prenderla in mano e fare qualcosa di grande. Mi piace che la donna sia rappresentata in questo modo. Mi piace un prodigio, un bambino che ha realizzato un sogno incredibile. Qual è? Appunto, un fan prodigio, no? Che proprio è anche un modo per definire questi bambini al di sotto di una certa età che hanno delle capacità speciali. Parliamo di Laurent Simon. L'hai detto? Franco Dito, come l'ha detto? No, con la R, giusto? No, posso dire perché? Perché dietro le quinte, cioè mia mamma, che è insegnante di francese... Ah, signora... Quindi, siccome... Probabilmente io avrei detto Laurent... Avrei paura che poi dopo ti facevo il cazzetto. Esattamente, quindi hai visto come... Laurent Simon? Questo bimbo belga ha nove anni. Ha nove anni. È importante, l'entame. Sì, è importante, per quello che vi sto per dire. Ha nove anni e questo dicembre si laureerà... Si laureerà... Come si laureerà? Sì, prenderà... No, no, no. Si laureerà in ingegneria elettronica. All'università, alla University of Technology di Endoven. Anche tu, Franco, a che tanti sei laureato in ingegneria elettronica? 12. Ah, ecco, vedi, che è che noi non siamo preoccupi. Allora, è una storia pazzesca. Questo bimbo, allora, prima di raccontarvi cosa farà adesso, perché ha dell'incredibile, questo bimbo ha iniziato a dare delle avvisaglie, di, insomma, avere delle capacità... Non sto pensando di disturbi. No, quando era piccolino, diciamo che i genitori, i nonni, notavano che lui, anche per esempio con l'approccio ai giocattoli, non ci giocava divertendosi come facevano tutti i bambini normali, ma li montava, li smontava, vola capire come... Scriveva le istruzioni. Per esempio. Un coreano. Cosa è successo? Che a un certo punto, durante le scuole primarie, quando era piccolino, quando aveva sei anni, le maestre chiamarono i genitori e dissero, signori, vostro figlio si annoia e lui in un giorno apprende quello che noi facciamo in cinque anni, quindi lui deve passare avanti. A sei anni ha iniziato le scuole superiori, il liceo. A otto anni ha fatto la maturità e adesso che ne ha nove, in un anno sta prendendo la laurea, che è un corso di laurea che, non so, probabilmente dura dai tre ai cinque anni, in ingegneria elettronica. Allora, eh... Guarda, ti fermo qui perché mi pare che abbiamo già detto... No, io chiedo a Franco una cosa, ma a essere così precoci, Franco, no? Non si rischia di perdere l'infanzia? Ci scherziamo su, però questi ragazzini sono poi dei bambini disadattati e non è meglio essere come me, che insomma, da ragazzo... Ma sicuramente, Franco, a presidere. Diceva, diceva, è intelligente, ma non si impegna, è svogliato. Non si applica, non si applica. Un classicone. Tu cosa volevi diventare all'età di Laurent? Guarda, no, mi ha fatto tenerezza perché leggendo la storia di Laurent ho visto che lui ha un sogno che è quello di diventare chirurgo, nello specifico cardiochirurgo. Questo bimbo, perché si fa ridere, però... L'ingegnere, insomma. L'ingegnere, lo vò, vorrebbe dedicarsi a dei cuori nuovi, a costruire dei cuori nuovi, degli organi artificiali che possano sostituire quelli malfunzionanti, perché il suo sogno è quello di prolungare la vita degli esseri umani. Quindi il suo sogno è quello di fare il chirurgo e spero lo faccio. È curioso, no? Che a nove anni ha già fatto tutto, vuole prolungare la vita per andare in pilaula. È assurdo, è assurdo. Mi ha fatto tenerezza perché anche io volevo fare il chirurgo, era il mio sogno. Io volevo fare il neurochirurgo, io sono sempre stata molto interessata al cervello. Ho fatto il testo di medicina quando ho finito il liceo e non l'ho passato. E quindi poi mi sono iscritta a filosofia e ho deciso di provare ad arrivare al cervello tramite lo studio delle neuroscienze. Poi, vabbè, mi hanno fermata per strada e ho iniziato a parlare. Diciamo, hai fatto altre cose. Però il mio sogno era quello, io volevo fare il medico chirurgo e aprire le teste, studiare le teste.